Dopo il pareggio a reti bianche dello scorso weekend nel derby contro le vicine di casa del Casentino, la prima squadra di mister acquisti torna di scena tra le muramiche dei campi lorentini nel match valido per il decimo turno di ritorno del campionato regionale di Serie C. Dopo la brillante prestazione di domenica scorsa in suolo casentinese, le ragazze amaranto ospiteranno il fanalino di coda Castiglion della Pescaia, già battuto in trasferta durante il girone di andata con un roboante risultato di 10-0. Ancora ben salda in quinta posizione con 42 lunghezze in classifica, le retine continuano la propria marcia verso i piani alti, accorciando le distanze con il filotto di testa e tornando a vantare anche grazie ad un curriculum di 11 vittorie, 6 pareggie e 4 sconfitte, la miglior difesa del campionato con sole 19 reti subite a fronte delle 49 siglate dall'inizio della stagione. Decisamente più svantaggiata la condizione della Cenerentola Castiglion della Pescaia, è incatenata nei bassi fondi della graduatoria con un magro bottino di 4 punti e reduce da una lunga serie di insuccessi. Questa domenica al tecnico amaranto Paolo Acquisi dovrà fare a meno di Chiodi e Zeghini, andando a completare il comparto difensivo con Antonelli, Renzoni e Aterini, con la presenza del mediano Baracchi. Resta invece invariato l'assetto in attacco che molto probabilmente vedrà confermate Lucarini e Paganini di fronte alla porta avversaria.